allora siete contenti? sono molto contento di essere qua a Mimmo, ciao a Mimmo, ciao a Mimmo, qua a Mimmo, si sta molto bene, molto bene, ci annoia, non c'è vento nemmeno oggi, vediamo un po', la panoramica, mamma mia che giornata brutta proprio, alla Mariano, per galleggiare, per galleggiare.